Di Maria Angela ho sempre fatto di tutto, l'ho vinto, l'ho presentato, sono stata in giuria e poi abbiamo scoperto che potevamo fare insieme a Maria Angela qualcosa di più per la solidarietà. Per cui stasera sono qui presente con la vicepresidente di Ayao Onus, saremo presenti a tutte e tre le serate, parleremo di formazione artistica poiché Ayao si occupa di sussidiarietà e cooperazione, per cui abbiamo scritto progetti internazionali per il diritto a non emigrare e con Maria Angela ci siamo chiesti, facciamo qualcosa per restare e così un progetto sul territorio sulla formazione artistica. Ti do una buona notizia, ci sarà la psicoterapeuta di Ayao, sei contento Masti? Per cui presenti con Maria Angela e grazie a Maria Angela con il mio ente assistito Ayao Onus e Alessandro Masti sarà assistito anche lui. Bene, bene. Allora, durante il pomeriggio, sì, grazie di avermelo ricordato, perché io già passavo oltre a queste belle ragazze, invece no, saremo presenti tutti e tre il pomeriggio per uno stage, uno stage appunto sull'importanza della formazione artistica. io parlerò dell'interpretazione, della comprensione del testo e di conseguenza della comunicazione. Poi ci sarà la psicoterapeuta di Ayao, che invece parlerà del contenimento dell'ansia da palcoscenico e la nostra progettista, la dottoressa Federica Vagnano, interessi e valori per una migliore coscienza del sé. Ecco, detto in parole povere. Tutti concetti importanti, Monica, per poter affrontare il palco, ma anche una carriera, per potersi autogestire, autoprodurre, perché oggi conta tanto l'autoproduzione. Per cui vediamo se riusciamo insieme alla Maristar a portare avanti questo progetto sul territorio per il diritto a restare. Grazie, grazie.